Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi propongo il rotolo alla nutella. Me l'avete chiesto in tanti, però voglio salutare prima di tutto Azuma o Azuma, dottore che me l'ha chiesto, primo che me l'ha chiesto, e te lo dedico, dottore, e la Rita, Rita della Stefane, che anche lei mi ha chiesto un qualcosa con la nutella, quindi le propongo questo rotolo. Però, prima di tutto, vi voglio invitare a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, mettere un like se vi piace il video, e nel frattempo vi lascio alla sigla e alla ricetta. Ciao e sigla! Ciao a tutti! 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 ! !